Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi svolgerò una scheda d'esame, risponderò a 30 domande in massimo 20 minuti di tempo. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, cliccate mi piace al video e seguite il mio canale, così potrò continuare a pubblicare i miei contenuti. Adesso allacciamoci la cintura perché iniziamo! Quiz numero 1. L'attraversamento pedonale è una parte della carreggiata sulla quale è vietata la fermata dei veicoli. La risposta corretta è vero. Sull'attraversamento pedonale sono vietate la fermata e la sosta di tutti i veicoli. Quiz numero 2. Il segnale raffigurato vieta il transito ai ciclisti. La risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato indica fra 150 metri un attraversamento ciclabile. Quiz numero 3. Il segnale raffigurato riguarda soltanto i veicoli in servizio pubblico. La risposta corretta è falso. Questo segnale si chiama via libera. Vuol dire che tutti i segnali precedentemente imposti non valgono più e riguarda tutti i veicoli. Quiz numero 4. Il segnale raffigurato obbliga ad andare diritto o a svoltare a sinistra. La risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato è sì un segnale di obbligo, ma in questo caso ci dice più avanti sarai obbligato a girare a sinistra. Quiz numero 5. Il segnale raffigurato preannuncia la fine dell'obbligo precedentemente imposto. La risposta corretta è falso. Il segnale raffigurato indica la fine del diritto di precedenza. E il diritto di precedenza non è un segnale di obbligo, bensì di precedenza. Quiz numero 6. La doppia striscia in figura non può essere superata, ma si può circolare stando a cavallo di essa. La risposta corretta è falso. Stando a cavallo, non ci possiamo stare perché la doppia striscia, ma anche la striscia singola, non si può toccare. Quiz numero 7. Quando il vigile si dispone di profilo con le braccia aperte come in figura, ci si deve arrestare prima della striscia trasversale d'arresto se si proviene dalla sua sinistra. La risposta corretta è falso. Andate a video in cui parlo del vigile. Ora cerchiamo di sintetizzarlo. Quando il vigile ha le braccia in questa posizione equivale alla luce verde. E dobbiamo capire per chi è il verde. Il verde è per tutti quei veicoli che arrivano dalla sua sinistra e dalla sua destra e che sono paralleli, vuol dire vanno nella stessa direzione, delle sue braccia. Quiz numero 8. Il segnale raffigurato indica un garage riservato ai taxi. La risposta corretta è falso. Non indica un garage, ma indica un'area di sosta riservata ai taxi. Quiz numero 9. Il segnale raffigurato indica la categoria di veicoli a cui è consigliata la svolta. La risposta corretta è vero. Il segnale è giallo e quindi è temporaneo utilizzato per lavori in corso. In questo caso indica a tutti gli autocarri superiori a 3,5 tonnellate di girare nella direzione della freccia. Ma ricordiamoci che è un consiglio, non è un obbligo. Quiz numero 10. Il pannello integrativo in figura B. Si può trovare sotto il segnale di curva o doppia curva? La risposta corretta è assolutamente vero. Il pannello B indica tre tornanti, cioè tre curve e si può trovare sia sotto il cartello di curva o doppia curva. Quiz numero 11. Il limite massimo di velocità su strade extraurbane e secondarie è di 90 km orari per autocarri di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate. La risposta corretta è vero. Un un autocarro, un camion, che pesa al massimo, 3,5 tonnellate, parliamo di peso è più facile, su una strada extraurbana secondaria può raggiungere al massimo i 90 km orari. Quiz numero 12. La distrazione del conducente non rappresenta un pericolo se si limita a pochi secondi. La risposta corretta è assolutamente falso. Non ci dobbiamo mai distrarre. Pochi secondi in realtà è tantissimo tempo mentre si circola, quindi ricordiamoci bene, quando si guida non ci dobbiamo mai distrarre. Quiz numero 13. Su una strada a due corsie a doppio senso di marcia, in figura, si deve impegnare quella di sinistra solo per il sorpasso. La risposta corretta è vero. La corsia di destra è quella di marcia e vuol dire tutti devono circolare in quella. Quella di sinistra è quella di sorpasso e una volta effettuato il sorpasso ritornerò nella corsia di marcia. Non posso circolare in quella di sorpasso. Quiz numero 14. Secondo le norme di precedenza nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo H transita dopo il veicolo O. Ora, in questo incrocio il veicolo H ed il veicolo L possono passare contemporaneamente perché non hanno il cartello di dare la precedenza. Subito dopo essere passati, il terzo veicolo che può passare è il veicolo B, perché alla destra libra una volta che L e H non ci sono più. E per ultimo è il veicolo O. La risposta corretta quindi è... falso. Quiz numero 15. Siamo a metà. Il conducente che intende sorpassare deve accertarsi che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia segnalato di voler compiere analoga manovra, cioè la stessa. La risposta corretta è vero. Se quello che mi precede davanti a me sta già effettuando il sorpasso, non posso farlo anch'io eh. Quiz numero 16. Fuori dai centri abitati, il conducente che deve sostare ha l'obbligo di collocare il veicolo, ovvero è possibile, fuori dalla carreggiata. La risposta corretta è assolutamente vero. Se siamo fuori da un centro abitato e abbiamo la possibilità di effettuare una sosta, cerchiamo di collocare il veicolo fuori dalla carreggiata. Quiz numero 17. La guida di un fuoristrada SUV, dotato di massa notevole e di altezza superiore alle autovetture, garantisce la massima sicurezza per gli occupanti del veicolo stesso e per gli altri utenti della strada. La risposta corretta è falso. Se avviene un incidente con un veicolo normale e un SUV, il veicolo normale si fa tanto male e quindi non garantisce un fattore di sicurezza. Anche perché chi guida un SUV, essendo bene in alto, fa fatica a vedere le cose che ha attorno e quindi dovrà controllare molte molte volte prima di fare qualsiasi manovra. Quiz numero 18. L'uso degli indicatori di direzione è necessario quando si inizia una manovra di sorpasso, ma non quando la si termina, rientrando nella corsia di marcia normale. La risposta corretta è assolutamente falso. Io metterò la freccia quando inizio a superare, ma metterò la freccia anche quando rientro dal sorpasso. Devo sempre segnalare la manovra, eh? Quiz numero 19. Le persone che soffrono di particolari malattie certificate non sono tenute ad agganciare la cintura di sicurezza. La risposta corretta è vero. Determinati soggetti non hanno l'obbligo di allacciare la cintura di sicurezza. Quali sono questi soggetti? Persone con un certificato medico, donne incinta con il certificato medico e l'istruttore di guida quando svolge la sua professione. Quiz numero 20. Hai vietato utilizzare un autoveicolo sulle strade pubbliche quando non si ha con sé il certificato di proprietà? La risposta corretta è falso. Il certificato di proprietà lo posso lasciare a casa. Non sono obbligato a tenerlo a bordo del mio veicolo. Quiz numero 21. Causa probabile di incidenti dovuti alla struttura della strada può essere presenza di strettoie non segnalate. La risposta corretta è assolutamente vero. Se c'è una strettoia e non è segnalata, il rischio che avvenga un incidente aumenta di tanto e quindi dobbiamo fare molta attenzione. Quiz numero 22. Se un infortunato della strada ha un'abbondante emorragia esterna, si deve tamponare subito la ferita facendo pressione con del materiale pulito o possibilmente sterile. La risposta corretta è vero. Se vediamo un soggetto qui fuoriesce del sangue, quindi una emorragia esterna, dobbiamo tamponare subito la ferita ed evitare che il sangue fuoriesca. In questo caso possiamo farlo con dei panni puliti o sterili, cioè mai utilizzati. Quiz numero 23. Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale si libera da ogni forma di responsabilità penale pagandone l'ammontare del danno? La risposta è difficile ma assolutamente falso perché è uno che è soggetto alla responsabilità penale. Ascoltare bene le parole non è che una volta che ha pagato il danno se ne frega, no no, avrà delle conseguenze lui. E quindi non è che finisce tutto lì. Mi raccomando, se questa domanda è difficile andate a seguire il video in cui parlo dell'assicurazione delle responsabilità. Quiz numero 24. L'abbandono di una batteria per auto sulla strada o sul terreno può recare gravi danni all'ambiente e alle falde acquifere sottostanti. La risposta corretta è vero. Non possiamo gettare le parti delle macchine in strada. Mi raccomando, ma dobbiamo andarli a gettare in appositi centri di raccolta. La batteria è proprio una di queste parti importanti. Quiz numero 25. Gli impianti di frenatura dei veicoli leggeri sono spesso dotati di servofreno. La risposta corretta è assolutamente vero. Cos'è il servofreno? È un sistema che ci permette di frenare senza usare i muscoli della gamba. Basta appoggiare un po' il piede sul freno e la macchina frena. Quiz numero 26. In presenza del segnale raffigurato e del semaforo ha tre luci, abbiamo la precedenza, se il semaforo è spento. La risposta corretta è vero. Se il semaforo è spento vuol dire che non va e se non va mi devo affidare la segnaletica verticale, cioè il cartello. In questo caso il cartello dice tu passi per primo, perché questo segnale è un segnale di diritto di precedenza nel senso unico alternato. Quiz numero 27. La distanza di sicurezza dipende dalla potenza del veicolo che precede. La risposta corretta è assolutamente falso. Cioè quindi se c'è una Ferrari davanti devo stargli a tre chilometri di distanza? No, non c'entra niente. La distanza di sicurezza dipende prima di tutto dalla nostra velocità e poi da tutti gli altri fattori che condizionano la distanza che dobbiamo tenere dal veicolo che ci precede. Quiz numero 28. Se ad un incrocio giungono contemporaneamente da strade diverse due veicoli, l'obbligo di dare la precedenza spetta il conducente del veicolo che percorre la strada più stretta. la risposta corretta è assolutamente falso. Se due veicoli arrivano in un incrocio e non ci sono segnaletiche, la precedenza si dà a destra. Ricordatevelo bene. Quiz numero 29. Il carico del veicolo deve essere sistemato in modo da evitarne la caduta o la dispersione. Solo se il conducente deve condurre il veicolo su strada extraurbana. La risposta corretta è assolutamente falso. Il carico va sistemato sempre e non solo quando guido in una strada extraurbana, ma in tutte le tipologie di strade. Quiz numero 30. Siamo alla fine. È opportuno per il conducente che accusa segni di stanchezza avvicinarsi il più possibile al veicolo che lo precede nella marcia. La risposta corretta è assolutamente falso. Se inizio ad avere sonno mi devo fermare, mi raccomando, e devo riposare. Non provate a fare la grossissima cavolata di guidare quando siete stanchi morti, perché potete addormentarvi. Ok ragazzi, il video è terminato. Spero vi sia piaciuto. Se avete dei dubbi, delle domande, scrivetelo nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video e grazie a tutti per avermi seguito. Ciao! Grazie.